Un caldo senza precedenti, con in più un'emergenza incendi, con un rogo divampato nella tarda mattinata in uno scatolificio di San Polo di Torrile, spento in pochi minuti dai vigili del fuoco, ma con anche un bilancio di 5 persone intossicate che, seppur non gravi, hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale. A causa del caldo sono invece centinaia le persone che nelle ultime ore si sono recate al maggiore colpite da malesseri o svenimenti. D'altra parte, siamo di fronte a luglio più caldo di sempre se si considera la media tra temperature minime e massime. Basti dire che ieri, nel rapporto tra i 36,7 gradi di massima e un'umidità arrivata al 49%, la temperatura percepita è stata addirittura di 42,3 gradi. Caldo insopportabile di giorno, ma clima irrespirabile anche alla sera e di prima mattina. Un'ondata di calura senza precedenti che è destinata a continuare fino a giovedì. Proprio le temperature minime sono insopportabili. Questa mattina 25,3 gradi. Per il mese di luglio è il terzo valore più alto di sempre. Il record rimane quel 25,6 del 2003. Quanto alla massima, invece, regge il 38,8, registrato l'8 luglio del 1950. Come detto, la canicola continuerà per altri due giorni. Nelle prime ore di giovedì arriveranno le nuvole e qualche temporale sparso e la temperatura dovrebbe calare di qualche grado.